Ebbene, ciao a tutti, ciao a tutti, vediamo, vediamo in questo video 10 potenti modi per sedurre una donna senza spendere soldi Allora, questo vale per tutti gli uomini che buttano via soldi per spendere una donna regalando cene, viaggi, cazzi e mazzi, ricchi premi e cotionze Dora una donna non deve essere questione di denaro, ma di saperci fare Quindi vediamo 10 potenti modi Il primo è la comunicazione, fare vivere delle emozioni, non costa niente far vivere delle emozioni Secondo, galanteria, ma diciamo a costo zero Apri le porte, offri il tuo aiuto, che ne so, portale la borsa, ma non spendere soldi Poi umorismo, l'umorismo è fondamentale, è gratis, non costa niente Donna che ride, mutanda che cala Falla aprire, è il quarto punto Falla aprire, fai domande Qual è una cosa bella, una cosa brutta che ti è capitata Questo le dà emozioni, si infertizza Fai dei complimenti, quinto punto, sinceri su dei suoi difetti Diciamo così, c'ha il naso grosso, ah che bel naso che hai Io sono un esperto, mi piace il naso egizio Questo le crea confusione, ma le dà emozione Sesto punto, sorprendila con delle attenzioni Prenditi il tempo per scoprire le cose che le piacciono E sorprendila con piccoli gesti di attenzioni Come un messaggio, una chiamata inaspettata Non costa niente, però fa effetto Settimo, crea un'atmosfera romantica Ad esempio una passeggiata al chiaro di luna Una passeggiata al tramonto Un tramonto sul mare È gratis e fa i suoi effetti Punto otto Condividi degli hobby Cioè farle vivere magari Anche dei piccoli hobby che le possono dare emozioni Mostrati maschio alfa Mostrati sicuro di te Mostra la sicurezza Devi avere fiducia in te stesso Tra l'altro più le dai Meno attenzioni avrai Invece è lei che deve investire su di te Questo è un punto fondamentale E il decimo punto Non essere appiccicoso Dimostra che se c'è o se non c'è Cioè ti fa piacere se c'è Ma non è che per far questo tu investi È lei che deve investire su di te Per vederti Quindi deve dedicarti il suo tempo Le sue energie Perché solo se farai questo Riuscirai a farlo innamorare Veramente Se invece dai soldi paghi Otterrai che se ne fotterà di te 10 potenti modi Bene, bene, bene Per questo video è tutto Mi raccomando Iscriviti al canale E attiva la campanella Così riceverai la notifica Dei nuovi video Mi raccomando E ti ricordo che sul canale Ti puoi abbonare Abbonare se è facile Basta andare nella home page Tastino abbonati Che sto avvicinando Tastino di screen